Grazie a tutti. Ma cosa fai? Che diavolo fai? Stai cercando di spostarlo col dito. Non puoi spostarlo col dito, tu sei morto. È una questione di testa. Il tuo problema è che sei ancora convinto di esistere. Pensi davvero di indossare bei vestiti? Di essere rannicchiato su quel pavimento? Pura illusione. Non puoi contare più sul tuo corpo, ragazzo. Tutto dipende da qui, ora. Vuoi spostare gli oggetti? Fallo con la forza della mente. Devi concentrarti. Hai capito cosa intendo? Ma come? Come devo concentrarmi? Non lo so come fai tu. Ognuno ha un suo sistema. Fallo. Fallo e basta. Così sei riuscito. Devi trattenere tutte le tue emozioni. Odio, la delusione, l'amore, la collera. E spingerle, tenerle legate qua giù, in fondo al tuo stomaco. E poi lasciare che snoda la cuore a tu. E poi lasciare che snoda la cuore a tu. E poi lasciare che snoda la cuore a tu. E poi lasciare che snoda la cuore a tu. Il è un pietro! 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 Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!